Una felice serata a tutti voi da Marcus, buon mercoledì sera 27 settembre, un'altra estrazione domani sera, quella del giovedì 28, quindi siamo a 16 estrazioni, ma terzo colpo per l'aggiornamento dato su YouTube, quello con 17, Bari e Venezia, abbinamenti 80, 81 e 82, ci viene incontro e in aiuto, sempre l'8++, le ultime 100 estrazioni esaminate con studio simpatici e spie, ruota di Bari, 100 estrazioni, guardate qua, esaminate, perché è in uno spazio più minimo, anziché le 500 estrazioni, 100 estrazioni di riguardo, quindi 17 è il numero interessato, andremo a vedere questo, cosa produce, quindi questo algoritmo, cosa produce, e vedere cosa, quindi prima del 17, quali numeri, oltre all'81 si sono andati ad aggiungere, è importante vedere questo, perché potrebbe davvero arrivare veramente il 17, accorgimenti importanti, perché questi possono veramente essere delle spie, per la sortita del 17, specialmente la ruota primaria, che è Bari, 81, guardate il livello della colonnina, 27, la colonnina è più alta, e poi il 20, quindi il 20, il 27 e l'81, sono tre numeri spia, per il 17 di Bari, guardate cosa succede, martedì scorso, arriva il 20, ma non è finita, e arriva anche il 27, e arriva pure l'81, tutte e tre le spie, sono accese per questo 17, quindi attenzione, guardate, c'è anche il 20 su Venezia, non so Venezia come va l'algoritmo, poi ci andremo a vedere, ma guardate un attimino, proprio il 17, le due ambatte contate, che vanno proprio su Bari, e poi Venezia, hanno le tre spie accese, l'81, il 27, guardate uno dietro l'altro, e poi il 20, e quindi la previsione diventa veramente interessante adesso, perché abbiamo veramente pochi colpi, dovrebbero esserci veramente pochi colpi alla sortita del 17 di Bari, quindi abbiamo il 20, il 27 e l'81, sono usciti tutte e tre, nell'arco delle 100 estrazioni esaminate, quindi quelle più vicino a noi, ai giorni nostri, molto ridotto e ristretto la ricerca, guardate cosa succede, 20, 27 e l'81, ieri sera, anzi martedì sera, è arrivato l'86 a Genova, c'era la doppia condizione che portava all'86, guardate che l'ambatta contate è micidiale, sono arrivate le vostre l'ambatta contate, se ne sono tantissime, tantissime come al solito, e ragazzi, per concludere il video, previsione che va avanti, terzo colpo domani sera, quindi 17 a Bari, sempre con l'80, 81 e 82, la classifica integrale del 90, sempre questa, Cagliari, Firenze, Torino e Venezia, le quattro ruote, dove il 90 potrebbe sortire, siamo, mi sembra, due estrazioni, due o tre estrazioni di assenza del 90, attenzione, dopo le due o tre estrazioni, poi ricomincia a prendere il giro, Cagliari, Firenze, Torino e Venezia, primarie a parer mio, Cagliari e Torino, secondarie, Venezia e Firenze, Cagliari e Torino le primarie, Firenze e Venezia le secondarie, vedremo se sarà così, non devo dire nient'altro, un grande saluto a tutti voi, e quindi la previsione si porta avanti con il 17, le spie 20, 27 e 81 sono sortite sulla ruota di Bari, vedremo se la statistica e l'algoritmo speciale dell'8++ verrà incontro a noi, e dandoci una spallata a questo 17, rivediamo comunque le due ambate importanti, le ambate contate sono sempre di questo mese, quindi quello del 14 settembre, giovedì e quello del sabato 16, quindi due estrazioni ravvicinate che portano il 17 a Bari e Venezia, e quindi attenzione, quando succede questo dovrebbe sortire nel breve tempo possibile, va bene? le posizioni le sapete a memoria, ve le faccio rivedere, sono sempre queste del Bari e del Venezia, le posizioni in rosso sono o dovrebbero essere quelle più importanti, le posizioni in giallo, le secondarie, ma non dimenticate come al solito, l'ambata semplice per recupero spese, chi vorrà giocare solo le ambate, perché qualcuno di voi ama le ambate solo come gioco, quindi Bari e Venezia, qui avete tutto, come faccio con il 90, così avete anche per il Bari il 17, Bari e Venezia, ci risentiamo ai prossimi video, terzo colpo domani sera dall'aggiornamento dato con l'ottantina, e vedremo cosa succederà questa settimana, terzo colpo vi ripeto domani sera, un abbraccio a voi tutti da Marcus e ancora una buona serata, ciao e al prossimo video. Ehi, non dimenticati di iscriverti, ma soprattutto attiva la campanellina, perché facendo così potrai ricevere la notifica dei nuovi video, grazie.